Sono Silvia Bastianelli e ho 32 anni, sono di San Giustino, non sono molto disinvolta di fronte alla telecamera, comunque ora mi sciolgo. Me ne sono andata a 17 anni per frequentare prima un corso alla Terballetto a Reggio Emilia, poi a 18 per andare a Francoforte, poi a Dresda, poi a Marsiglia, poi a Vignone per poi ripassare per l'Italia. Un giorno mio fratello mi ha scritto un messaggio dicendomi non so dove sei ma comunque io ti voglio bene, è difficile stare dietro a tutti i tuoi spostamenti. Mi sono diplomata alla scuola di Francoforte nella sezione di danza contemporanea, riportare l'esperienza dall'estero è qualcosa di eccezionale, nel senso che non avrei mai apprezzato così tanto la mia casa, la mia terra, la calma, la tranquillità. Per me non c'è altro posto meglio di questo perché io sono nata qui. È stato molto interessante rimanere per dieci anni fuori da qui e scoprire quando poi sono tornata con una maturità completamente diversa da quella di una ragazzina comunque di 17 anni. Ho scoperto che questa realtà, soprattutto oggi dopo sei anni che sono rientrata, piano piano sto conoscendo delle persone che come me sono state fuori e sono tornate. Hanno scelto di vedere la mamma con le lacrime agli occhi per infinite volte ripetute per anni e anni e c'era sempre quella tristezza di non sapere bene che cosa andavo a fare per i miei genitori. Quando mi sono fatta male in Germania sono tornata e ho iniziato a fare qualcosa con i miei genitori, a lavorare con loro fino a quando un giorno la mia mamma mi ha detto che dovevo ritornare in scena, che il mio posto era il teatro e non potrò mai smettere di ringraziarla per questo. Però mi sento molto attiva perché molto artisticamente felice di quello che sto facendo. Sono molto felice di aver fatto il mio primo spettacolo qui al Teatro della Misericordia. A questo punto mi piace scoprire, mi piace indagare per quello che sarà questo nuovo lavoro con Samuel e scoprire finalmente qual è il mio linguaggio coreografico. Grazie a tutti.